Ciao a tutti, sono Irina della Trattoria Irina di Savigno e vi ruberò solamente un paio di minuti attraverso questo video che ho deciso di farvi. Tutti noi stiamo attraversando un periodo difficilissimo, ci stanno mettendo a dura prova e purtroppo per la maggior parte di noi gli incassi hanno cominciato a diminuire drasticamente. Fermo restando ciò, io e tutti i miei colleghi con la quale mi sento dalla mattina a sera anche per incoraggiarci e andare avanti abbiamo deciso di non alzare bandiera bianca perché non ci vogliamo arrendere. Vi chiediamo sicuramente, come stanno dicendo ormai dappertutto, di non prendere sotto gamba questa situazione perché esattamente come si sta dimostrando non mi sembra sia una semplice influenza. E soprattutto dobbiamo tutti quanti seguire le restrizioni in maniera da poter permettere alle persone preparate di riuscire a contenere appunto questo virus. Io come trattoria ho deciso di promuovere un servizio che si chiama Irina Casa Tua dove preparerò un menù apposta con dei piatti d'asporto e dei piatti con servizio domicilio. In maniera da riuscire ad andare avanti tutti assieme e di permettere a voi di restare a casa però di poter mangiare esattamente con la stessa qualità, con la stessa cura e lo stesso amore piatti preparati come se fosse al ristorante. Domenica sicuramente sul sito ci sarà già il menù pronto, quindi parliamo di un paio di giorni e auguro a tutti di riuscire a superare questo momento perché noi siamo italiani e dobbiamo farcela. Grazie. Grazie.